non ne puoi più del tuo vicino di casa un personaggio famoso ti ha stracciato le palle la prostata da oggi c'è amazon.com il più grande e-commerce di omicidi su ordinazione liquidazioni tutto l'anno il nostro servizio clienti è a vostra a disposizione 24 ore su 24 buongiorno sono filippino che pulisce scale di casa signor dario agento siccome quando passa nel piano il rotolo mi fa sempre prendere spavento e io rovescio secchio e devo fare tutto da capo se vi do i miei risparmi fate fuori per favore grazie buongiorno che paura sta storia mette brividi a proposito non è che il cliente si impressiona vedere come è conciato il cadavere dario argento come fa a peggiorare visto che l'hai passato nel tritacarne mettici un cartellino su quell'hamburger gigante se no chi lo capisce che lui in effetti non si riconosce così ha troppo colorito ci mettiamo la sua foto no no fa troppa impressione amazon festeggia il mese dell'invidia con le sue fantastiche offerte qualcuno ha vinto il tuo concorso non sopporti chi ha più successo di te sei veramente rosichi amazon ti viene incontro con l'offerta fuori tutti bretti budellati ammazza ammazza quanto so precisi buona buona Grazie a tutti.